Cioè, le frequenze possono essere esterne, quindi cosa mangiamo, cosa beviamo, cosa vediamo, che stile di vita facciamo, giusto? Ma soprattutto le frequenze sono interne. Cosa pensiamo? È chiaro per tutti? E la causa principale, soprattutto una volta che io ho cambiato il mio pensiero su quella cosa, ho preso consapevolezza su quella cosa là, la malattia è scomparsa. Io oggi, se penso alle mie ernie, che ho avuto due ernie a vent'anni e mi sono trovato a fare alzare 120 kg in panca piana e poi in un certificato medico che non poteva alzare 5 kg da per terra, pensate che un ragazzo si senta la virilità, tutto quanto scenda, giusto? Quindi, oh ecco, sono andato in fabbrica per colpa dei miei genitori che gli erano morti da fame, ma i detti e odio. E quindi problemi economici, problemi con tutto. Quando ho cambiato me stesso, grazie a ernie che siete arrivate, perché io lì morivo dentro quella fabbrica lì, non sarei qui? Capite cosa voglio dirvi? Quando noi riusciamo a cambiare dentro di noi un evento, lo vediamo con altri otti, l'evento cambia. Questa è la cosa principale che volevo trasmettere, perché noi, queste frequenze, sia esterne e interne, chi è che le vede, chi è che le percepisce? No, noi, come vi ho detto prima, siamo invasi anche da elettrosmog, da segnali dei cellulari. Voi vedete i segnali dei cellulari? Però il vostro inconscio li percepisce.